Ciao a tutti, siamo qui con Pino di Millennium Shop, ormai un veterano di Cartumix, cosa ci puoi raccontare? Ormai siamo alle fasi conclusive della fiera, un resoconto. Allora, a parte la stanchezza, buongiorno, buonasera a tutti, ci siamo veramente divertiti in questa edizione, un'edizione come sempre piena di nuovi appuntamenti, di tante novità, di tantissime promo e quindi sono contento, ringrazio tutti, il nostro negozio come tutti sapete è aperto dal 1999 a Scaffati in Popay, siamo rimeditori ufficiali nelle fiere dell'Euro Disney, quindi tutti i prodotti Euro Disney Statue, ci potete trovare presso di noi, o da tanti gadget e fumetti del settore. Inoltre c'è il nostro sito internet, milleniumshop1.it dove potete fare acquisti online e ringrazio tutti e spero di vedervi qua il prossimo anno. La prossima fiera dove ci troverete è Romix, poi Torino Comics e ovviamente non può mancare il Comic Con di Napoli. Ringrazio tutti, alla prossima. Grazie Pino, magari l'ultima domanda, qual è stato secondo te il prodotto più venduto di questa fiera? Ma in generale da quello che ho visto un po' in giro ovviamente i Bob Funko che sono secondo me in questo momento l'articolo più venduto in tutte le fiere. Poi sappiamo che anche tu vendi Zume, sei uno dei rivenditori Zume, però non hai portato qua nulla Zume. Zume ho portato solo le X-Stra, la Zume come HQS, perché io tendo a vendere solo in preordine, in quanto non adoro molto il fattore che in Italia vengono lievitati troppo i prezzi. Questa è una cosa che odio e ovviamente odio anche il mercato del falso, perché io vendo solo prodotti originali e ci deco che la gente non venga presa in giro ma bensì premiata di tante ore di treno e roba a pari per fare acquisti. Perfetto, ringraziamo Pino e alla prossima. Grazie. Grazie.